Su fratelli, su compagnie, su venite in fitta schiera, su una libera bandiera, splende il sol dell'avenì. Nelle pene e nell'insulto ci spingemmo il muto patto, la gran casa del riscatto, di un mila e buona nata di... Dall'indomani della scomparsa di Betto, Metello diventò vero italiano e vero uomo. Prima ancora di essere elencato nei registri del comune, si trovò registrato negli elenchi della polizia. Egli era stato contadino, viveva da qualche tempo in città, in un quartiere di operai e di artigiani, era quindi in grado di capire e soccorreva alla sua giovane età un'ancestrale esperienza, il pericolo che correva presentandosi sulla porta del commissariato a chiedere notizie del suo amico. Ma nessuno si era mosso per aiutare Betto, né al mercato né tra la gente del quartiere. Dicevano, ubriaco com'era, tutto in cesta, secondo il solito sarà cascato in arno, e se non è affogato è alle murate, non sarebbe la prima volta, presto o tardi ritorna. In ogni caso, non lascia a piangere nessuno. Nemmeno Metello aveva pianto, mai, anche se si faceva male, o se buscava picchiandosi per delle rivalità tra pastori, anche sotto le frustate del guardia, le lacrime non gli uscivano. sentiva soltanto, sempre, un grande rancore, di cui presto si dimenticava, come qualcosa gli fosse conficcato in petto, e un respiro dopo l'altro se ne liberasse. Ma ora, questo groppo durava. Betto lo aveva ospitato e nutrito, gli aveva insegnato a leggere e scrivere, era suo amico. Metello gli voleva bene, e diversamente da come diceva di voler bene Altinai, a mamma Isolina e Olindo in specie, nel voler bene ad essi, non aveva mai sofferto, nemmeno quando li aveva visti partire. Ora invece, pensando a Betto, pativa. Se si trovava in carcere, gli avrebbe portato da mangiare, teneva il berretto in mano, aveva le scarpe pulite, la giacca abbottonata, e i capelli ravviati, quando, non aveva ancora oltrepassato la soglia, li venne incontro il piantone. Sono un amico del Betto. Di chi? Del maestro. Vieni e passa. Lo tennero due giorni in carbonaia, gli usarono il riguardo, siccome era minorenne e incensurato, di non mandarlo alle murate, mentre erano in corso gli accertamenti. Ma già durante il primo interrogatorio, dopo avergli fatto ripetere la propria storia, e in che rapporti fosse, e perché cercasse Betto, il delegato gli disse. Il maestro non è alle murate, e non è da nessuna parte. Se è affogato, come dico, non lo ripescheranno, e se non lo ripescano, lo ripeschiamo noi. Tu dimenticatelo, chiaro? Perché? Sembrava che il delegato ne avesse, ne sapesse molto di più, e non glielo volesse dire. Piuttosto, parliamo un poco di te. Chi era tuo padre, lo sai? Faceva il renaiolo, e anche lui affogato, lui davvero. Ecco, disse il delegato, ci siamo capiti. Capiti? Egli aveva detto una verità, sotto la quale non c'era nessun sottointeso. Tu sei giovane, e ancora in tempo sei. La strada di tuo padre, del maestro e di gente come loro, sai dove ti porta? Oltre che in Arno? Qui ti porta. E poi alle murate. E poi a Porto Longone. Alza il viso, gli ordinò. Rendo l'idea. Era un uomo più che bruno, nero. Aveva i capelli divisi a metà, lustri e ondulati. Gli parlava con un tono in apparenza paterno, ma con l'intenzione di mettergli paura. E proprio per questo, siccome si capiva che cercava di impaurirlo, Metello non aveva paura. Non di meno. Era meglio se non lo guardava negli occhi, che aveva ugualmente neri e sembrava vibrassero mentre lo fissavano. Al contrario delle sue parole, lo intimorivano. Sopra la sua testa, c'erano due ritratti che Metello aveva imparato a conoscere. Re Vittorio, che era morto, e Re Umberto, che non aveva il pizzo, ma aveva i baffi più lunghi, i capelli ritti, e lui, di San Nicolò, si diceva, volta le carte, e peggiora. Tra i due ritratti, sulla parete, tutta scura, con grandi chiazze d'umido, c'era il segno di un crocifisso, come se l'avessero tolto, o come se fosse stato dipinto di giallo, senza il Cristo, sul muro, e piano piano si fosse estinto. Il delegato aveva seguito lo sguardo di Metello, puntò l'indice all'indietro e gli chiese. «Vi vuoi bene?» Metello annuì. «Saresti disposto al sacrificio della vita per difendere il suo regno?» Erano le stesse domande che gli rivolgeva il priore di Rincine, facendogli baciare i santini. Ripete di sì. «Proprio?» Poi con l'indone ridevano. Siccome Babba Eugenio aveva il prete, appena il prete voltava le spalle, diceva «Quelli si sono messi là sott'ana e hanno risolto il problema, veati loro!» Ma mamma isolina voleva si rispondesse «Sia fatta la sua volontà!» Trattenne un sorriso e rispose «Sia fatta la sua volontà!» «Tu a Portolongone finisci!» disse il delegato. Chiamò il piantone e lo fece condurre in guardina. Era una stanza a quadra, alta di soffitto e con l'inferiata che dava su un cortile a un pian terreno. C'era una ragazza che cantava da mattina a sera «La donna è mobile qual piume al vento muta da cento» e non la si poteva mai vedere siccome la sua finestra era d'angolo e sovrastava la rimessa. Questa, con l'ingresso, era evidente dall'altra parte dell'isolato, appestava il cortile di sterco e di orina di cavallo. Era autunno e tuttavia in certe ore per grande che fosse dentro il camerone non si respirava. Ora Metello sapeva di persona cos'era una carbonaia. Non ancora il carcere ma di già gli bastava. gli fecero compagnia durante le 48 ore che gli rimase da prima due borseggiatori e un magnaccia che aveva ferito la sua amante e non era valso a nulla che Costei giurasse d'essere caduta. Gli insegnarono a fumare il toscano e come si trattano le donne e si estrae un orologio dal panciotto. Occorreva andare a scuola. Quando esci disse il pianziano dei borseggiatori un bruno sui 30 anni alto e magro che sbagliava l'occhio a momenti Vai da Ilarione in Malborghetto digli che ti ho mandato io digli mi manda a Lunghino in poche lezioni diventi professore. Gli parlarono dei mille modi di fare l'amore e i due borseggiatori gli dimostrarono come ci si può trastullare a vicenda. Erano arrivati una distanza di poche ore dall'altro e speravano disse di venire destinati nella stessa cella alle murate mentre così si divertivano il lunghino diceva all'altro un biondo che sembrava più giovane d'età ma a grado i baffi e il riporto sulla fronte di la verità ti sei fatto pigliare perché sapevi che mi avevano pizzicato quello che si vantava di aver ferito la propria donna disgustato dallo spettacolo intervenne e si azzuffarono entrò al piantone e li trovò che giocavano alla morra quando in Bruny vennero a prenderli per portare alle murate così per la prima volta nella sua vita Metello vide più uomini legati a una stessa catena sull'alba ebbe due nuovi amici che li tennero compagnia per tutta la seconda giornata la ragazza la ragazza sempre cantava è Michela la conosco disse uno dei due abita dall'altra parte della strada era anche lui un ladruncolo colto in fragrante ammise sull'omnibus che da porta alla croce conduceva a piazza della signoria povera figliola è più in galera di noi sta sempre a letto non fa che pettinarsi e cantare è inferma non può camminare le gambe è come non le avesse le ha come le aveva 5 o 6 anni le tiene dentro delle calze nere di lana ma se non le guardi il resto è uno splendore di giorno non vuole che si salga nemmeno per centolire è tutta bionda ha due occhi e un petto comincia a lavorare la sera c'è sempre la fila l'altro Metello non l'avrebbe mai scordato si chiamava Santechellini ed era nato fu lui a dirlo siccome venne il discorso nemmeno a farla apposta il giorno che cacciavano il granduca faceva il muratore era un collega lavorava sui lungarni ed era stato arrestato perché aveva preso a pugni e segnato il caporale me le ha strappate dalle mani disse beveva il fiasco dell'acqua e mi volle sentire il fiato diceva che aveva nascosto l'altro fiasco del vino che rubriaco sul lavoro ce l'aveva con me da un pezzo non perché non rendo lo sa quanto me se rendo e come e come conosco il mio mestiere ma perché secondo lui metto sugli altri per via della paga ora si pentiva del proprio gesto pensando a sua madre che restava senza aiuto e alla sua ragazza che faceva la sarta ed era di una famiglia per bene già i suoi parenti vedevano di malocchio che si fossero fidanzati gli chiedero scusa in tribunale a quel farabutto aggiunse farò di tutto per uscire prima possibile ma ormai è andata io ci volevo una lezione mi era salito il sangue alla testa se non me lo levavano dalle mani lo disfo e da lui per la prima volta Metello sentì parlare di socialismo di uguaglianza di lavoro che andava pagato secondo il sudore cose che nemmeno Betto gli aveva saputo dire e che gli stavano più a mano la ragazza sempre cantava era di nuovo sera il ladrunco l'era andato e tornato dall'interrogatorio il chellini diceva ora che si è fondato questo nuovo partito gli resterà sempre più difficile farci del male siamo tutti riuniti e con uomini come Costa come Turati ma che manovale sei se non ne hai mai sentito nominare con l'ora a capo si sa dove si va ma ti sembra giusto commentò che un filone di pane ci costi due ore di lavoro l'importante non lasciarsi trascinare alle vie di fatto personali come è successo a me qualche ora fa ma quando te ne levano dalle mani ripete perché non ti credere in certi casi caporali sono più carogne loro degli impresari e gente come noi che si è venduta entrò il piantone che forse stava a origliare e disse già vi conoscete facciamo lo stesso mestiere Metello disse ma non ci si era mai visti prima d'ora aggiunse il chellini via disse la guardia c'è il cellulare il muratore e ladruncolo si avviarono ciao chellini disse Metello ciao figliolo la guardia lo sospinse non poterono nemmeno darsi la mano Metello uscì di guardina la sera stessa dopo che l'ebbero schedato come figlio di Caco discepolo del maestro e amico del chellini muratore congedandolo il delegato gli disse ora giovanotto dipende da te ricordati che ti teniamo gli occhi addosso egli tornò al lavoro ed aveva preso la sua decisione togliersi quegli occhi di dosso il più presto possibile intanto ragazzo di 18 anni soggiacendo ad un pensiero il più costante tra quelli che l'avevano accompagnato l'intera settimana il sabato di poi riscosse il salario salì le scale della casa di Michela le gambe della ragazza non gli fece l'impressione non le guardò o non le vide Metello arrivò a 20 anni che era non un altro uomo ma un uomo diverso da quello che sarebbe diventato se fosse rimasto a Rincine bracciante di fattoria la città dove era nato lo riconobbe e lo confortò gli aperse la mente e gli irrobustì il cuore gli dette un pane che per quanto sudato spesso lo inorgoglì e piuttosto che spegnere alimentò nel suo spirito vagliandole quelle doti di caparbietà di equilibrio di furberia anche radicatisi in lui durante la sua fanciullezza contadina scomparso Betto viveva solo e a cominciare dal filone di pane gli occorrevano 6 centesimi ogni settimana egli si trovava al principio di quella scala che parte dal manovale e conduce al mezzo muratore al muratore al primo muratore una lunga scesa che non ha vette ma ripiani in cima con le braccia conserte sta al caporale il lavoro era la sua risorsa e gli piaceva e come gli piaceva al lavoro gli piacevano le sottane dopo la sua prima esperienza con Michela aspirava dei sentimenti un poco più puliti non ancora supponeva di doversi innamorare ma di fidanzarsi di correre come aveva imparato a dire la cavallina sui punti si respirava pieni polmoni come in campagna ma a grado la fatica via via che si sale la città diventa in basso sempre più piccina si abbraccia con uno sguardo e tra la gente che si vede andare e venire ci sono le ragazze che fanno le sarte le sigaraie o le ricamatrici e che ti ascoltano non gli importa se devi ancora fare se devi ancora fare il soldato sono disposta ad aspettare quando sanno che hai un mestiere nelle mani questo è un motivo di più per agognare il giorno in cui avrebbe lasciato il cofano in manovale e impugnato la cazzuola e il filo a piombo del muratore del resto cosa gli aveva detto il Kellini più bravo diventerai nel mestiere più ti verrà chiaro di essere uno sfruttato Kellini non l'aveva più incontrato gli avevano dato quattro anni per lesioni colpose e tutti quei muratori lo conoscevano e lo portavano in palma di mano a maggior ragione quindi ora che ricordava le sue parole Metello le trovava facili da capire gli bastava intenderle come una norma di vita e riferendole all'ambiente del suo lavoro si proponeva di trovarsi d'accordo coi suoi compagni nel resistere se il caporale avesse preteso di imporre un soppluso tuttavia mai essere il primo a farsi avanti né mai l'ultimo a tirarsi indietro mai doversi pentire di aver offerto i polsi alle manette certo egli non avrebbe perpetuato le idee di suo padre di Betto così come non desiderava di fare la loro fine il tempo gli avrebbe poi dimostrato se tutto questo era possibile o se era comunque un'illusione già egli si accorgeva che gli anarchici diventavano sempre meno dispersi o in galera che fossero adesso era sopra i socialisti che si posavano gli occhi della polizia e più la sua mano erano un'altra pasta ad uomini costoro forse più ignoranti meno generosi se non a parole avevano tutti una famiglia da mantenere ma con le idee più chiare non di meno se da sceva una discussione bastava un anarchico sia pur l'ultimo e analfabeta ma non erano quasi mai analfabeti anche se facevano un mestiere per tenere testa un gruppo di socialisti è vero no gli dicevano che più si combatte insieme e più si avvicina il giorno in cui ci sarà un mondo senza classi senza più sfruttati e senza più sfruttatori poniamo di sì l'anarchico rispondeva come poniamo il numero fa o non fa la forza il numero fa il gregge collettive sono le pecore che hanno sempre bisogno di tre cose del pastore del cane e del bastone l'individuo è libero è arbitro di tutte le sue azioni parli come un capitalista e voi altri come dei preti e venivano alle mani e nel migliore dei casi con te non si può discutere voi anarchici siete dei poeti erano dei poeti non gente come noi che il cervello si avrà piccino ma lo sappiamo ad operare sul lavoro ad averli per amici si sarebbe fatte in quattro per insegnarti il modo di calibrare un mattone e come Betto tolti la camicia per aiutarti in caso di bisogno presi a uno a uno erano di un altro mondo dei poeti Metello si ripeteva scacciavano una mosca anche quando sarebbe stato facile schiacciarla e nello stesso tempo non ci avrebbero pensato due volte dandosi l'occasione di mettere una bomba e fare una carnificina predicavano il furto ed erano le persone più oneste che gli fosse mai capitato di incontrare sempre meno gli capitava di incontrarne e poi gli anarchici non avevano dei capi forse perché non si riconoscevano nei capi e anche questo li dipingeva ma se c'è un uomo istruito o più intelligente di te che vuole il mondo vada per lo stesso verso in cui tu vuoi che vada perché non seguirlo e starla ad ascoltare i socialisti volevano delle cose concrete e i capi non gli mancavano tanto per incominciare come aveva detto il Kellini volevano che il lavoro fosse pagato secondo il sudore ossia che per prima cosa aumentassero i salari e diminuissero le ore di fatica si era aperta anche una camera del lavoro e il suo segretario e fondatore Sebastiano Del Buono era una persona disinteressata come un anarchico e con la testa sulle spalle viveva del suo stipendio di impiegato delle ferrovie e le ore che gli restavano libere e parte della notte le passava tra la sede allo strozzino una sola stanza dove quando a sera in dieci bisognava stringersi per entrare la periferia e la campagna a tener comizi e a scriver manifesti a dar consigli e incoraggiare ti lasciava all'uscita del cantiere per andare a quella della manifattura dopo aver parlato con le sigaraie passava una riunione di lavoranti stipettai magari di parrucchieri si era disoccupato finiva col cavarsi di tasca l'ultimo diecino e si dava il caso che per suo conto dovesse poi saltare la cena lo si chiamò in seguito l'angelo rosso o l'angelo senzali aveva una voce esile che anche se saliva di tono non si arrocchiva mai usava espressioni talmente naturali che sembrava avesse fatto tutta la vita al muratore piuttosto che l'impiegato portava le lenti strette sul naso i baffoni e la barba le punte del solino rivoltate il fiocco largo che gli toccava il bavaro della giacca dai due lati da questo si capiva che lavorava con la testa e non con le mani anche se il vestito era sempre lo stesso trasandato e dallo sguardo sempre calmo dolcissimo ridente dietro quegli occhiali aveva un suo modo di dire che era questo mi sembra bene non ti pare oppure mi sembra male non ti pare un giorno anni dopo allorché potei conoscerlo più da vicino discutevano di come andavano le cose durante lo sciopero dei muratori l'estate del 1902 Metello disse così e così bastiano gli replicò secco con un'energia che Metello non si aspettava è una risposta da Sagrestano ci siamo proposti il minimo se lo strappiamo è una vittoria altrimenti c'è da ricominciare da capo sorrise gli posò una mano sulla spalla non ti pare gli disse e malgrado la barba sembrò a Metello di vederlo arrossire e c'era Pescetti lui davvero un oratore tra poco lo si sarebbe portato alle elezioni era un avvocato anche lui con la barba ma senza gli occhiali piccolo di statura strascicava una gamba e non faceva mistero di non avere dubbi sull'esistenza del Signore ma appunto per questo Marx e il Vangelo erano per lui una cosa sola ed egli era per i socialisti fiorentini Costa Turati Barbato e Cipriani messi insieme le sue parole erano tutto fuoco e se del buono era un angelo lui era un santo armato San Giorgio socialista e nemmeno ma a modo suo Savonarola ad un certo momento si interrompeva per raccontare una barzelletta che invece di spegnerlo cotesto fuoco era come se ci si buttasse sopra dell'olio si tornava in cantiere col cuore sollevato lo si chiamava Beppino quando se ne parlava sul lavoro o il signor Giuseppe ma sempre Pescetti se gli si rivolgeva la parola lui ti pigliava sotto il braccio e insieme si andava a bere una mescita due tre voi giovani voi sì che lo vedrete il sole dell'avvenire ma ce ne saranno di guerre da combattere prima di allora diceva parlava come uno di noi diceva guerre per dire prove da superare lotte coi padroni e col governo contro il re e contro il papa che seppure si erano voltati di spalle rispetto al popolo continuavano ad essere quelle che erano sempre stati zuppa e pan bagnato diceva fino alla distruzione della società borghese del capitale il che nel corso degli anni avrebbe significato e fame e carcere e fucilate tutte cose per metello di là da venire gli bastava essere allora e dimostrarsi solidale andare ai comizi leggere la lotta di classe iscriversi alla camera del lavoro ma non al partito del resto difficilmente l'avrebbero accettato era troppo giovane e immaturo né lui viambiva prima di potersi mettere alla pari con uomini non diciamo come pescetti o come del buono ma come chellini o qualcun altro dei suoi compagni di lavoro metello sapeva di dover diventare un bravo muratore non era un alibi ma un ragionamento che quadrava con la sua situazione quale interesse avrebbe avuto a buttarsi nella mischia egli era solo al mondo se un giorno gli fosse mancato il lavoro giusto coi due soldi di del buono avrebbe mangiato l'indomani e aveva vent'anni lavorare gli piaceva ma anche andare con le ragazze pescetti stesso che si voleva fosse casto addirittura forse per questo non c'era sigaraia che non lo adorasse e come socialista e come uomo cosa aveva detto durante il suo comizio in piazza dell'unità aveva detto per inciso parlando della povertà a cui si è costretti e dell'impossibilità anche per chi ha del lavoro di formarsi una famiglia e una volta formata di non farle mancare l'essenziale è forse un lusso anche l'amore di non farle mancare di non farle mancare